Musica Ciao che se ne è, benvenuti in questo nuovo episodio di Godita Resurrection, io come sempre sono MegaNaiseman Nello scorso episodio dovevamo raccogliere le piume della Dea, mi sono accorto che andando al terminal e facendo prelevo a materiale abbiamo già le piume della Dea Per cui possiamo già rientrare nel laboratorio e consegnarla al dottor Sakaki Salve, già ho fatto quello che ho richiesto, consegna, sono così commosso che tremo, bene, ora chiedo a Lico di fare il suo, bene, sto cominciando a divertirmi Mantello da caccia, sconfiggio un bug Kamlan e due Kongo individuati nella città vecchia, per entrare in le regami si considera un'arma scintilla, fondamentalmente limitare i movimenti del Kongo e consiglio di usare armi perforanti Sì Complito Mission accomplished, preparatevi per tornare all'anno basso E ta da Oh, non c'è male Oh mio Dio, è proprio l'affemmazione più tracente una mia più oltre Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!